Continua all'Aquila il servizio antidroga delle forze dell'ordine che conferma purtroppo il capoluogo come crocevia di vari tipi di spaccio. Sono stati convalidati gli arresti e avviate le procedure per la presenza regolare sul territorio italiano di due cugini di 34 e 27 anni sorpresi con involucri di cocaina pronti allo spaccio. I due all'interno della propria autovettura stavano passando un involucro attraverso il finestrino agli occupanti di un'altra autovettura. Notata la presenza degli uomini della squadra volante che li stava osservando, si sono dati ad una precipitosa fuga in una strada sterrata cercando di disfarsi degli involucri di cocaina. I due alla fine sono stati fermati e recuperato anche il denaro provente dallo spaccio e la sostanza stupefacente. Nella convalida dell'arresto si è poi acclarato che la presenza dei due sul territorio nazionale è irregolare.